112 anni, ma è come se fosse il primo anno, almeno per me, perché l'emozione di vedere salire la bandiera è sempre la stessa, probabilmente dicevo anche prima la stessa che provò il nonno in quel lontano 1912, vorrei formulare un augurio per il paese, il passato è passato ormai, guardiamo al futuro, auguro veramente che l'Albania possa avere un futuro radioso, sempre meglio, viva l'Albania e viva gli albanesi, ovviamente.